Io questo video lo faccio al cinquantesimo e lo dico tranquillamente perché questo Napoli da Juventino se lo stramerita non importa essere tifosi di una squadra per dover relociare basta anche essere sportivi, onesti e riconoscere i meriti di una squadra che anche da nemici però in Europa si rispetta perché come ha giocato contro il Nizza già dall'andata si era visto magari un po' meno perché il Nizza aveva giocato molto più intraprendente qua anche al ritorno in Francia ha giocato da Dio stiamo al cinquantesimo appena si è andato a Leone aspettavo soltanto il momento del gol per sancire proprio il KO dei francesi che poi ora arriveranno i Juventini più inutili e diranno eh ma sono i primi a offenderci 4-1 Asensio 3-2 Murgia è finita ma io non li guardo i tifosi io guardo la prestazione sul campo punto e basta quindi Juventino che non vuoi elogiare il Napoli mettiti da parte perché quando si parla di calcio non c'è bisogno di guardare cosa ci dicono alle spalle basta perché ricordiamocelo 2010 Sampdoria Verder Brema fuori 2011 Arsenal Udinese fuori dai preliminari 2012 Udinese Sporting Braga fuori solo nel 2013 Milan ci aveva fatta con il PSV 2014 Napoli fuori col Bilbao nel 2015 Lazio fuori col Bayern Leverkusen nel 2016 la Roma fuori col Porto e dopo non so quanto tempo 3 italiani in Champions League il prossimo anno ce ne saranno 4 direttamente solo perché è cambiata la regola ma quest'anno Juventus, Napoli e Roma ci saranno i sorteggi giovedì parliamo di questo Napoli del Nizza io sinceramente schifo ma schifo totalmente Balotelli sei un rinnegato te ne sei andato fuori dall'Italia perché evidentemente nessuno riesce a capire le tue qualità volesti andare in nazionale dico io spero in ventura che non gli passi neanche per l'anticamera del cervello a portare quello lì non ha fatto niente di buono niente non che fosse semplice stare insomma lì dietro con Koulibaly al Biol perché insomma eh sono due difensori che hanno tenuto bene anche tutta la squadra si muove bene non parlando dei singoli perché quando parli di Napoli e parli di spettacolo parli dei tre folletti magici lì davanti perché ormai Insigne, Caleon e Mertens vanno a intesa vanno ad occhi chiusi quelli anche nel sonno riescono a trovarsi anche al buio riuscirebbero a trovarsi ugualmente e niente cos'altro devo dire? Sarri che ha dominato la partita in lungo e in largo non c'è neanche bisogno di dirlo o di elogiarlo è questo il Napoli e da un bel po' l'ha fatto capire in campionato gli manca la continuità poi ci sono quelli che hanno detto che il Napoli non può essere da scudetto perché è crollato negli ultimi dieci minuti venendo comunque da una partita dispendiosa a livello mentale contro il Nizza all'andata e avendola due giorni dopo al ritorno più o meno di che stiamo a parlare e se il gol è arrivato soltanto al cinquantesimo è perché loro, quelli del Napoli, corrono come dei dannati lungo il campo e mi ricordo un po' la Juve di Conte che correva come dei pazzi però questa rispetto alla prima Juve di Conte ha la qualità ai giocatori perché del resto sono gli stessi dell'anno scorso che hanno un'intesa incredibile in Champions comunque anche se sarà in terza il Napoli può fare come l'anno scorso magari non gli capiterà un giorno così facile anche se ci sono buone possibilità perché in prima fascia ci sono delle squadre insomma così e così soprattutto come lo Spartak Mosca, Shakhtar Donetsk come il Benfica c'è quattro forti Chelsea, Juventus che non può prendere il Napoli tra l'altro Bayern Monaco e Real Madrid e le altre quattro molto molto meno importanti tra cui anche il Monaco quadra francese in seconda fascia, lì ci sono dei problemi è soltanto il peccato del Napoli non essere in seconda fascia perché seri lì insomma ti evitati quasi tutte le big che si prenderanno sia Juventus sia Roma sia Napoli visto che anche la Roma è in terza fascia grazie alle emiliazioni dell'Ajax io non resta che fare comunque un grande applauso perché ripeto non è più il singolo a parte San Maximan ripeto quello del Nizza che all'andata mi aveva colpito per quello corre come un treno e lo porterei io in spalle qua dal Nizza per averlo ora ovviamente non c'è nessuna trattativa però come l'ho visto sul campo quello corre come un dannato del resto è del 97 l'età ce l'ha Snyder vabbè che si può dire gli mancava Coziello le ha espulso all'andata quell'espulsione secondo me non è che ha fatto male per quanto riguarda quella partita singola cioè rimanere in 9 contro 11 ma perché erano giocatori importanti perché al posto di Balotelli anche non lo so un giocatore primavera della serie A avrebbe fatto meglio almeno si sarebbe più applicato al sacrificio cosa che non ha fatto e io continuo a ritenere questo giocatore un incompleto non alla Cassano però insomma siamo lì l'età non è quella però è sulla buona strada è andato al Nizza ha fatto qualche gol perché vabbè in campionato francese ora con tutto il rispetto non è così impossibile riuscire ad andare in gol e va bene Allan quanto ha corso anche Allan Giorginio mai va a memoria nei suoi lanci Amsic neanche ve ne sto a parlare insomma non sono dei fenomeni singolarmente perché Isai e Goulam ci mettessi un Alexandro e un Dani Alves ricordo l'anno scorso la Juventus magari certo devono essere istruiti a modo da Sarri perché ovviamente i campioni gli dai a Sarri però devono orientare tutti nel meccanismo ed ecco perché non sono stati comprati neanche troppi giocatori perché a Sarri dai una squadra lui gli dai un anno di tempo con gli stessi ci crea una squadra che va avanti a memoria a ritmo e non sbagliano mai perché in signa molti dicono che è stato il peggiore all'andata ma guardate quanto spirito di sacrificio ha quanto gioca con la squadra quanto corre quanto dribble lascia secchi gli avversari i tre davanti li hanno un dispendio energia incredibile ma comunque se non va bene uno ce ne sono altri due come Caleon che oggi ha messa dentro che Mertens ha preso il palo anche ora la partita tra me è finita 1-0 poi non so a fine video quanto durerà anche se dovesse prendere un gol capirà il Nizia deve fare altri 4 quindi ora non penso di dover annullare questo video per questo motivo niente giovedì ci sono i sorteggi giovedì sera quindi farò un video per quanto riguarda soprattutto la Juventus analizzeremo un po' i gironi forse farò anche un video domani se riesco all'argomento per cercare di farvi capire più o meno quali sono le squadre avendo il quadro completo ovviamente mercoledì sera perché mercoledì sera ci saranno gli ultimi preliminari di Champions League e niente di cui vi saluto complimenti al Napoli per da Juventino tanti like per questa vittoria del Napoli e finalmente 3 italiane in Champions League bella